Il dottor Raffaele Loprete è uno dei soci fondatori dell'Associazione Parallelo 38. Dottor Loprete, il lavoro da fare è tanto, le aspettative pure. Da dove inizierete in concreto? Allora, in concreto noi ci siamo posti, diciamo, l'obiettivo di fare vari tipi di manifestazioni culturali, fra i quali prevederemo delle manifestazioni teatrali, delle rassegne cinematografiche, ma anche delle cose un po' più legate al territorio, come dei percorsi enogastronomici, che tenderanno a valorizzare i prodotti della nostra terra. E poi anche, se questo è un futuro un po' meno immediato perché occorrerà un certo raccordo con le scuole, se sarà possibile vorremmo fare delle escursioni con le scuole, cercando di andare alla scoperta del nostro territorio, delle tante bellezze che ci offre, cercando anche di fare innamorare le persone e insegnare loro il rispetto per l'ambiente e per il territorio in cui vivono, perché abbiamo veramente delle grandi ricchezze naturali da apprezzare, perché se prima non le apprezziamo, non le amiamo, non saremo mai in grado di valorizzarle. Antonio Grimaldi, studente di Taurianova. Antonio, la parola d'ordine dell'Associazione Parallelo 38 è partecipazione. Cosa ti aspetti tu da questa associazione? Mi aspetto quello che avete inquadrato oggi, la partecipazione del Paese, perché a Taurianova manca, manca da tanti anni. E' arrivata l'ora che noi giovani ci armiamo, di tanta pazienza soprattutto e tanto coraggio, perché ci vuole tanto coraggio, soprattutto in queste realtà della Piana, realtà segnate da purtroppo eventi non tanto positivi. Grazie. 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 Luigi Longo è editore del giornale online taurionevese a Prodo News. Luigi Longo, anche lei ospite a questa importante iniziativa dell'Associazione Culturale Parallelo 38, in prima fila ho visto, come ha accolto a Prodo News la nascita di questa associazione? Direi molto bene, intanto sono dei ragazzi in gamba, lo hanno dimostrato anche oggi, ma conoscendoli personalmente da molto tempo, credo che questa associazione può dare un grande contributo per questa città e ce n'è bisogno, anche perché credo che la cultura e i ragazzi che si impegnano in un settore specifico, per quella della cultura è molto importante perché per una crescita complessiva dell'intero territorio, perciò è un'ottima iniziativa e noi la sponsorizziamo con molta tranquillità e soprattutto tutte le iniziative positive che ci sono sul territorio, indipendentemente dal colore politico, se ce ne sono o non ce n'è, noi siamo in prima fila a sostenerli. Grazie. Don Alfonso, la location della presentazione dell'associazione Parallelo 38 e anche la scelta di invitare un coro gospel, la dice tutta sui fini dell'associazione, come ha accolto l'invito di questa presentazione? Conosco molti di questi giovani che hanno creato questa associazione Parallelo 38, sono tutti pieni di fervore, però mi sono meravigliato, ma entusiasticamente, positivamente, per l'originalità della presentazione di un'associazione, perché di solito ci si riunisce, facciamo questo, quest'altro, due pasticcine e finisce lì, invece veramente hanno iniziato in modo culturale, perché artistico pure, perché per la prima volta ho sentito questo coro che viene da Reggio, mi pare, vero? Ma veramente è un coro da lodare, quindi l'iniziativa poi per Taurianova è fondamentale, perché in molti paesi, ma io parlo del mio paese, di Taurianova, il livello culturale bisogna elevarlo parecchio. Ci sarà collaborazione tra lei, la sua parrocchia, le chiese di Taurianova e la sua... Sì, anche perché gli animatori, alcuni degli animatori sono della mia parrocchia e poi noi siamo sempre disponibili veramente, quando si tratta di giovani, quando si tratta di azione culturale, siamo sempre disponibili a collaborare, ad aiutare e a mettere a disposizione tutto quello che noi abbiamo nella nostra parrocchia. Allora, grazie e molti auguri. Grazie a voi e auguri pure alla vostra emittente. Per di tutto tanto abbiamo trasmesso la presentazione dell'Associazione Culturale Parallelo 38. Restate con noi. Grazie a tutti. 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 Tania Bambaci. Grazie a tutti. Grazie a tutti i programmi di matrimonio, invece i tuoi personali, visto che magari avrai modo di vedere tutte le novità che ci sono riguardo questo mondo. Sono finanziaria da tanti anni, spero in futuro di sposarmi con la stessa persona, però ancora il matrimonio è una cosa lontana. Progetti professionali per il futuro? Tanti sogni nel cassetto e sto cercando di realizzarli tutti. Noi abbiamo colto per l'ennesima volta questa occasione perché è una manifestazione che ormai da anni, viene realizzata all'interno della città di Reggio Calabria, un appuntamento fisso che l'amministrazione comunale ha sempre in qualche modo accompagnato nella realizzazione. Questa manifestazione rappresenta indubbiamente un veicolo importante per valorizzare anche l'immagine della città, per cui è perfettamente in linea con quella che è la linea con il programma di governo della nostra amministrazione e quindi del sindaco Arena, per cui siamo ben contenti di aver patrocinato e sostenuto questa manifestazione. Questa location è molto particolare per l'evento? Abbiamo cercato di mettere a disposizione un po' quelli che erano i siti che più potevano adattarsi rispetto alla realizzazione di questa manifestazione. In passato è stato utilizzato sempre il Cedir, da qualche anno per problemi anche di ordine pubblico, dovuto ai noti fatti che hanno interessato la città di Reggio, il Cedir non è più utilizzabile per questo tipo di manifestazioni e quindi abbiamo individuato il Palasport per la realizzazione di un evento così importante che a mio modo di vedere rappresenta anche una location abbastanza suggestiva che consente anche di andare oltre quello che è il profilo proprio del palazzetto che è legato allo sport coniugando anche questi eventi che sono di natura culturale, di natura commerciale e che danno comunque lustro alla nostra città. Il Capo Amaro del Capo Ghiacciato ti conquista Grazie a tutti Incastonato nell'incantevole Chianalea di Scilla, ristorante Blu de Troie La magica atmosfera della sua pedana sul mare rende la tua serata unica ed indimenticabile Blu de Troie, via Grotte 40, Chianalea di Scilla, Reggio Calabria Le telecamere del programma di tutto tanto della Graziano Tomarchio Management sono in partenza per Sanremo Vi racconteremo curiosità, retroscena e gossip della più importante manifestazione canora italiana Intervisteremo per voi gli artisti del festival di Sanremo e vi faremo vedere tutto quello che si muove dietro le quinte fuori dal teatro Ariston Di tutto tanto per sapere, vedere, sentire anche quello che non si canta e non si dice In onda su Teleregio È una produzione Graziano Tomarchio Management in collaborazione con Teleregio Graziano Tomarchio Management in collaborazione con Teleregio Emetri Abbate è patrono di questa manifestazione, non poteva mancare la tappa di Reggio? Sì, è nata a Reggio Calabria, quindi non è la tappa primaria Anche se poi si svolge alla fine del periodo giusto per questo tipo di eventi Che va da metà ottobre all'inizio di gennaio Poi questa tipologia non va più bene perché le coppie hanno già scelto E quindi l'ultima come serie che inizia Prima Siderno, poi Rizzicone, era a Reggio Calabria Ma è la prima che è nata circa vent'anni fa E chiaramente in queste occasioni è d'obbligo ringraziare intanto gli espositori Senza i quali tutto questo non sarebbe potuto succedere E quindi non finirò mai di ringraziare l'amministrazione comunale Che non avendo un quartiere feristico Il Cedere, come tutti sappiamo, è considerato obiettivo sensibile Per cui non si poteva svolgere che si è svolta sempre lì Quindi siamo da due anni alloggiati qui E quindi li ringrazio l'amministrazione comunale Anche la gestistica Piero Viola Adesso non so se si chiama in modo diverso Comunque sia perché in concomitanza stasera c'è Viola a Riedi E quindi abbiamo trovato questo accordo, sinergia Qualche uscite di sicurezza in più Che è giusto che sia così Quindi ci sarà un evento nell'evento Fino alle 10 di questa sera Altro ringrazio anche la madrina Che in mezzo alle tante richieste Ha scelto come location Reggio Calabria Quindi la ringrazio attraverso la vostra televisione